Buongiorno amici di Facebook, oggi voglio presentarvi il caddy con allestimento pedana per disabili un motivo di orgoglio per la nostra azienda questo è il caddy passo corto, comunque c'è anche eventualmente il passo lungo dove abbiamo fatto fare una trasformazione per la pedana adesso vi faccio vedere si schiaccia qua, si tira giù la pedana da qui viene sollevata la carrozzina ci sono poi dei ganci per tenerla sia in salita che in discesa questi verranno poi staccati e riattaccati in maniera che la carrozzina in caso di frenata non vada in avanti dunque tutto super omologato, super sicuro è una pedana abbastanza facile da aprire, da chiudere se volete informazioni potete venire da noi che vi spieghiamo, vi facciamo un bel preventivo arrivederci